Cari fratelli e sorelle, in un mondo in cui i grandi della terra, sempre più ubriachi di potere, di ricchezze, di successo, sembra non si rendano conto del prezzo di sangue che a causa della loro arroganza viene pagato dalle vittime innocenti, delle loro guerre, delle loro ingiustizie, delle loro malvagità, l'appello di San Paolo ai cristiani ad essere sempre più ricolmi dello Spirito Santo diventa ancora più pressante. Non dovrebbero forse i cristiani essere segno della presenza e dell'azione di Dio che, in Cristo suo Figlio, per mezzo dello Spirito Santo, vuole salvare l'umanità dal fallimento eterno? Infatti, più viviamo secondo lo Spirito, più diventiamo fermento di fraternità, speranza e gioia nel mondo, fino a quando? Finalmente liberi e felici in Dio? Insieme con tutti i credenti loderemo e canteremo in eterno il Padre che ci ha creati, il Figlio che ci ha redenti e lo Spirito Santo che ci ha santificato.